Aspetta aspetta, ma tu hai cliccato questo video perché vuoi evocare te stesso? Eh certo che puoi evocare te stesso! Questo è l'incantesimo, quindi adesso vi faccio vedere che cos'è questo incantesimo e quanto vi costerà per evocarlo. Vi costerà quasi la metà della vostra vita, mi sembra 600 PV, sì PV, un attimo, stato, sì di PV vi costerà più o meno 600, eccolo qua, è proprio identico a me, e adesso vi spiego anche dove andare, come trovare questo incantesimo. Molto semplice, se vi sto annoiando ragazzi cliccate più avanti il video oppure velocizzatelo. Adesso vi faccio vedere un po' cosa fa. Stessi danni, fortissimo, è come avere un compagno di squadra, cioè è come avere un compagno di squadra, guardate. Ok ragazzi, allora noi dobbiamo recarci in questo posto, quindi un attimo che andiamo un attimo qua. Ok, eccoci arrivati, assicuratevi di avere... Le chiavi della spada di pietra massimo due, cioè, sì, vi serviranno due chiavi della spada di pietra, due, due esattamente due. Quindi andiamo un attimo qui dove stanno queste rovine del tetrobosco, qui. Metto il punto così non mi perdo. Due. Ok, poi vabbè, ora ho un modo per farvi capire dove andare esattamente, poi proseguito da questa parte... Ok, siamo arrivati alla città eterna, quindi fate molta attenzione qua sopra... Ok, siamo arrivati alla città. Ok, siamo arrivati alla città. Ok, siamo arrivati alla città. E qui ragazzi troverete l'incantissimo. Eccolo qua. Ecco qua dentro ci sarà l'incantissimo, questo qua. Ok, quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.